Allora, iniziamo lo studio delle unità 8, moti accelerati. Quali sono le conoscenze? Significate d'unità di misura dell'accelerazione, relazione tra velocità e tempo, implicazioni della pendenza della retta nel grafico velocità-tempo, leggi orarie del moto, proprietà della proporzionalità quadratica tra grandezze, concetto di velocità media, leabilità, applicazione della legge oraria del moto uniformemente accelerato, tracciamento del grafico di grandezze legate da proporzionalità quadratica, valutazione delle conseguenze della velocità quadratica, determinazione della pendenza della retta nel grafico velocità-tempo. Paragrafo 8.1. L'accelerazione. Quando spingiamo il pedale dell'acceleratore di un'automobile, la velocità aumenta, mentre il contrario accade se il pedale su cui agiamo è il freno. Nel primo caso diciamo che stiamo accelerando, nel secondo che stiamo decelerando. Tra l'altro, come risulta dalle schede tecniche fornite dalle case costruttrici, possono esserci auto, come quelle da corsa, che impiegano 2,6 secondi per raggiungere, con partenza da fermo, la velocità di 100 km orari e altre che di secondi ne impiegano 12. La prestazione della prima è ovviamente migliore, dato che è in grado di raggiungere la stessa velocità finale in un intervallo di tempo minore. Dunque, fa parte della nostra esperienza quotidiana associare il concetto di accelerazione a situazioni nelle quali si ha una variazione di velocità. L'accelerazione, informazione, l'accelerazione è una grandezza fisica che ci informa sul fatto che la velocità subisce dei cambiamenti nel tempo. Definiamo l'accelerazione come il rapporto tra la variazione di velocità e l'intervallo di tempo in cui tale variazione avviene. Definizione, accelerazione uguale, rapporto, quindi linea di frazione, variazione di velocità, fratto intervallo di tempo impiegato ad ottenere la variazione stessa. Ricorrendo al formalismo scriviamo formula A uguale delta V fratto delta T. La variazione di velocità delta V è data dalla differenza fra la velocità finale V e la velocità iniziale V0, cioè delta V uguale V meno V0. Ricaviamo adesso l'unità di misura dell'accelerazione. A uguale delta V fratto delta T. Adesso delta V misurata in metri al secondo, misurata in secondi, uguale metri fratto secondo al quadrato, che si legge metri al secondo quadrato. Unità di misura di A, l'accelerazione, si misura in metri fratto secondo al quadrato e significa, il suo valore significa di quanto varia la velocità ogni secondo di tempo che trascorre. esempio, calcoliamo l'accelerazione di due automobili. Una di essa passa da 0 a 100 km orari in 8 secondi, mentre l'altra che sta procedendo a 50 km orari si ferma in 6 secondi. Ricordiamo che 100 km orari corrispondono al centro fratto 3,6 uguale 27,8 m al secondo. Avremo che, per quanto riguarda l'automobile in fase di accelerazione, A sarà uguale a 27,8 m al secondo velocità finale meno 0 velocità iniziale fratto il tempo che impiega la velocità a raggiungere il valore di 27,8 partendo da zero. Risultato 3,5 m al secondo quadrato. Quanto vale l'accelerazione dell'automobile che si rallenta e si ferma? Ripetendo i passaggi appena eseguiti trovi facilmente che A è uguale 0 velocità finale perché si ferma meno 13,9 m al secondo fratto 6 secondi uguale a meno 2,3 m al secondo quadrato. L'accelerazione è negativa in quando l'auto decelera, cioè la velocità decresce. Quando la velocità finale è minore della velocità iniziale, vale a dire quando il corpo subisce una decelerazione, allora il segno dell'accelerazione è negativo. Analogamente a quanto fatto in situazioni precedenti, nel caso avessimo bisogno di ricavare delta t oppure delta v dalla definizione dell'accelerazione, le formule inverse sono quelle rappresentate sotto. Quindi partendo dalla formula dell'accelerazione a uguale delta v fratto delta t, ci ricaviamo che delta t è uguale a delta v fratto a, mentre delta v uguale a per delta t. Come può intuire, dato che la velocità è un vettore, anche l'accelerazione in realtà ha una grandezza vettoriale. Il vettore accelerazione viene definito nel modo seguente, a uguale delta v fratto delta t. Quindi il verso e la direzione di a sarà dato dalla direzione e il verso della differenza dei vettori velocità finale meno velocità iniziale. Qual è l'accelerazione che si può sperimentare? In fase di salita iniziale di una montagna russa 12,63, in moto 18,5 metri al secondo quadrato, nel giro della morte 39,2 metri al secondo quadrato, nell'allenamento dei piloti militari 88,2 metri al secondo quadrato. A partire da valori di circa 19,3 possono cominciare a minimizzarsi i primi disturbi che diventano più significativi se la societazione dura più di qualche secondo.